Ciao, oggi facciamo Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Lucio Battisti. La prima parte la facciamo arpeggiando e la seconda parte, il ritornello, la facciamo ritmata. Vediamo quali sono gli accordi che utilizzeremo. Un Mi minore. Un La minore settima. Un Do maggiore. Un Si settima. Poi abbiamo un La minore sesta. Un Sol. Un Do settima maggiore. Un Fa settima maggiore. Questa è per le prime parti, mentre nel ritornello abbiamo un Mi maggiore, un La maggiore e un Si maggiore. Andiamo a spiegare la prima parte arpeggiata. Abbiamo il Mi minore. Si arpeggia il pollice, la sesta corda, dall'alto verso il basso. Indice medio anulare, quarta, terza, seconda. Molto facile. La minore settima. Il pollice pizzica la quinta corda, dall'alto verso il basso. Indice medio anulare, quarta, terza, seconda. Il Do maggiore. Identico alla minore, il comportamento della mano destra. Quindi pollice, quinta corda. Indice medio anulare, quarta, terza e seconda. Il Si settima, la stessa cosa. Il comportamento della mano destra, identico a quello della minore settima, è identico a quello del Do maggiore. Quindi pollice, quinta corda, indice medio anulare, quarta, terza e seconda. Ok? Ok? Il ritmo. Il ritmo è semplicemente nel ritornello. Quindi, giù, giù, su, 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 giù. 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 Ok? Andiamo a cantarci sopra. Dove vai quando poi resti sola? Io ricordo come sai, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farne tico più, a guarirmi chi fu, ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. In questa parte c'è chi, al posto del don maggiore, infatti prima vi ho detto che c'è un la minore sesta. Alcuni, ma diciamo che può anche starci bene, a posto del don maggiore usare il la minore sesta. Quindi fare io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Quindi anziché alternare il do maggiore e il si settima, potete alternare il la minore sesta a si settima. Ok? Anziché do maggiore, la minore sesta. Ritornello, mi maggiore. Come può uno scoglio, arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, e le verdi terre, le discese ardite, e le risalite, su nel cielo aperto, e poi giù il deserto, e poi ancora in alto. Con un grande salto. Fine.